Ho un amico che è stato beccato dentro casa sua, dentro il suo letto, quello in cui dormiva, con un'altra donna, e scopava. La moglie è tornata a casa, ha aperto la porta della camera da letto, ha visto il marito tutto nudo, che scopava con un'altra donna, è entrato e aaaaaaah! Lui ha saltato in piedi, ha visto la moglie correre via dalla stanza urlando, l'ha inseguita lungo il corridoio, tutto nudo, con il cazzo duro come una roccia, dicendo Scusami amore, sembra quasi una tragedia, vero? E invece no, è andata così, amore aspetta, 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 dobbiamo parlare amore, mi dispiace, no no no, non ti dispiace, come hai potuto farmi questo? Non hai rispetto per me, ho parlato a casa, non toccarmi, non toccarmi, amore, tu solo aspetta, mi dispiace, mi dispiace davvero, mi dispiace, no, se ti dispiaceva non te l'ho scopata! E poi si rigira la frittata, vero ragazzi? Ok, aspetta un minuto! Aspetta un secondo, accidenti! Sì, l'ho scopata, ok, sì! È questo che vuoi sentire, d'accordo, allora l'ho scopata, abbiamo scopato, ok? Sei contenta ora? Abbiamo scopato! Parliamo un po' del verbo scopare, va bene? È un termine molto importante, scopare, l'ho scopata, l'ho scopata quella là, scopata, me la sono scopata! Con te invece faccio l'amore! E se lasci che ho una scopata rovini il nostro amore, allora qui c'è qualcosa che non va, bella mia!